Mark Bernardini con un colpo di scena sull'arresto di Mosca e dopo il golpe fallito di Prigocin. Mark Bernardini. Ci sono. Intanto subito massima solidarietà a Fazzolo che avete usato come agnello sacrificale perché ve lo dico da ascoltatore sentire che lo interrompete contemporaneamente in tre io vi garantisco che non si capiva un accidente né di quello che dice il primo nel secondo nel terzo nel quarto. Se siamo due. Se siamo due. Grazie mille. Fazzolo è stato interrotto Luca da te da Giuliano e dal professor De Masi e dal professor De Masi. Ma il professor De Masi era ospite. Lo ha invitato ad andare al fronte che non mi sembra di buon gusto con uno che al fronte c'è stato davvero. Ma non lo sapeva. Il problema è che Fazzolo è troppo morbido. Ma non è vero. Fazzolo è un combattente. Alberto, indurisciti. Vediamo. Vediamo. Vabbè, senza scendere nei dettagli della faccenda comunque l'importante è riuscire a far passare i messaggi e il messaggio principale appunto era quello di non cedere alle dinamiche in corso e quindi cercare di arrivare a un percorso di pace. Il messaggio importante da far passare è di sostegno e tentativi come quello di Zuppi. Adesso Marco Mesolo. E' molto bello il dibattito che c'è stato in seno al popolo della sinistra con idee diverse e Marco Bernardini chiama l'ortodossia. Vorrebbe che ci fosse un solo pensiero. No, vorrei che si parlasse uno per volta tutto lì. Vorrei che si parlasse uno per volta. Mi sembra assolutamente logico. Lo trovi a Mosca. In Siberia si parla uno per volta. Qui siamo disordinati, liberali, anarchici. Eh sì sì, va bene. Anche sull'anarchia potremmo fare una trasmissione a parte su che cosa sia l'anarchia. Se vuoi fare una soluzione Spagna 1936 vuoi tornare qui fasto. Anarchia non vuol dire casino. Va bene? Pensa agli anarcho-sindacalisti. Dacci la notizia! Certo che ti addirvi davvero. Esatto, e se me la fate dare io me la do la notizia. Ma è ovvio che la notizia è anche nello stile, nella cifra. Vedi, vedi, vedi? Era proprio questo che intendevo. La notizia è che non c'è nessuna notizia su Rovichin, non è stato arrestato. E questa voce è stata smentita, e questa voce è stata smentita dal portavoce ufficiale del Cremlino, da Peskov. E è un ottimo esempio di come si costruiscono. e come si va bene, e di come vengono costruite le notizie. Ti ricordi che era un raffreddore? Questa notizia... Era già morta dai cinque giorni. Puoi parlare tu, allora non chiedermi la notizia. Perché se me la chiedi io ti rispondo, ma se non mi fai rispondere... Dici, dici, ma come ha smentito? Chi ha detto? Peskov ha detto che, e non solo non è vero, ma quante ne sentiremo nei prossimi giorni. La notizia è stata costruita nel seguente modo. Questa notizia è stata data per primi dal New York Times, subito ripresa dal Wall Street Journal, subito ripresa da delle emittenti assolutamente insignificanti, ma pericolose, come Radio Svoboda, cioè Radio Liberty, come The Voice of America, come il Moscow Times, che non esiste da anni, non esiste più in Russia, nonostante il nome, ma invece viene gestito e curato in Occidente, e dopodiché è stato ripreso da tutti i giornali italiani, e come sempre, più se ne parla e allora qualcosa di vero ci sarà pure. No, non è vero, Surovichin, perché siccome io a 61 anni non mi sento rincoglionito, io il 24 giugno ho visto con i miei occhi e ascoltato con le mie orecchie un filmato diffuso in internet con un intervento del generale Surovichin che si rivolgeva a quelli della Wagner, dice tornate immediatamente indietro, queste questioni eventualmente si risolvono per via pacifica. Queste sono state le parole testuali di Surovichin. Adesso si dice addirittura che lui invece fosse in combutta con Prigogine e che sia stato arrestato, e invece non è vero. Quindi è una bufala, questo è il fatto. Alberto Fazzuolo, non ti chiedo per carità di smentire il verbo di Bernardini, ma cosa pensi dell'atteggiamento di quel pezzo di esercito che ora è finito sotto i riflettori? Ha avuto una sponda o no, Prigogine? Pronto? Mi sentite? Sì, sì, sì. Ah, ok. Dicevo, una sponda in ambienti militari sicuramente ci sarà stata o quantomeno ce ne sarà stata una attesa più ampia, ma sicuramente non si fa da soli, non ci sono stati spargimenti di sangue nella presa di Rostop e dell'aeroporto di Rostop, quindi qualcosa c'è sicuramente stato. E su questo qualcosa sicuramente qualcuno ha cercato di seminare zizzagna, cercando di mettere all'indice qualcuno per magari innescare delle faide interne. Però appunto con la ricostruzione di Mark penso che si possa mettere fine a qualsiasi rumor su questa vicenda del coinvolgimento diretto di Surovichin. Lo scopriamo nelle prossime ore perché Mark è molto bravo a darci l'ufficialità moscovita, ma spesso questa ufficialità moscovita è smentita dai fatti che succedono poi. Mark, hai qualcos'altro da dirci? Ma fondamentalmente no, perché appunto io quando ho sentito stamattina questa storia di Surovichin, ovviamente no, subito... Ma siete amici con Surovichin? Ti vedo indignato, sei saltato. Certo, sono indignato per come vengono costruite le notizie, anche se è molto indicativo, quindi forse è addirittura un autogol per quanto riguarda l'Occidente. Però voglio dire, ma vi rendete conto, no? Tutta la catena che vi ho fatto, New York Times, Wall Street Journal, Radio Liberty, Mosco Times, giornali italiani. Domani vedremo un messaggio di Surovichin libero. Non lo escludo, fermo restando che siccome quello è un militare, ha ben altre cose da fare, lui oltretutto sta lavorando al fronte e quindi lui ha da fare altre cose che non farsi vedere a livello mediatico, no? Cioè non è il compito suo. Adesso praticamente lo state costringendo a fare qualche dichiarazione, a farsi vedere, perché ovviamente sempre con queste versioni romanzate addirittura si è detto non si è più visto dal 24 giugno. Te credo, ha ben altre cose da fare. È un militare, va bene? Giuliano, mi dispiace che anche tu stai costringendo il generale Surovichin a abbandonare i suoi gravi e importantissimi compiti. e magari adesso viene fuori per fare una dichiarazione e lo arrestano davvero. Meglio che non si faccia vedere. Allora, la banda più folle, più libera, più sguagliata. Non lo trovo assolutamente divertente. Non lo trovi divertente? Divertiti che sei più pesante di uno petroliero. Dai, dai. Eh sì, certo, certo. Invece il tuttologo, ingiustificatamente sovrapprezzato, Giuliano Guidabardi, invece è divertentissimo. Ehm, che invidietta la mattina. Che invidietta dalla mattina preso. Sovrappeso, sovrappeso. Invidietta di cosa? Ma quale invidia? Ma di che? Ma io sono contentissimo di non essere te, figurati. Ma no, ma qua c'è la libertà. Ma dai, anche scortese. Ma che brutto. Certo, da voi c'è la libertà e noi invece siamo sotto regime. Ma certo, ovviamente. No, no, no. Tu, tu, tu. Sei sotto maleducazione, basta. Certo, senz'altro. Infatti, dirti che sei un tuttologo è una maleducazione. No, hai dei modi proprio indistificabili. La morale della puntata. Ciascuno ha i suoi. La morale della puntata. Abbiamo toccato l'ermetismo e allora continuiamo così. Chiudiamo con la cesura dell'estate di Montale. Occorrono troppe vite per farne una. Buongiorno, benvenuti a 120 minuti. Luca Telese e tutta la sua compa se ne sono andati. Li ritroverete domattina con la solita puntualità a partire dalle sette. Sentito stamattina fuochi e fiamme con Mark Bernardini da Mosca con Giuliano Guidabardi dalla sua amata Sardegna e mezzo ai fuochi c'era il nostro Luca il nostro sagace Luca che accende fuochi e fiamme che butta benzina a piene mani. Poi succede a piene mani.